I libri ci aiutano ad andare in posti lontani. Il sogno di un bambino. Voglio quello! Ce li hai soldi per comprare quello? Perché i libri si comprano? La tenacia di un ragazzo. Vorrei mettere su una casa editrice. Un grande sogno per un ragazzo così giovane. Io dico che ci riesco. La visione di un uomo illuminato. Io voglio dare soltanto la possibilità a tutti gli italiani di leggere e di farsi una cultura. La Mondadori ha bisogno del vostro aiuto. Ti meriti un bel dieci, Mondadori. Grazie, maestra. Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il mondo. Mercoledì 21 dicembre alle 21.25. Rai 1.